L'edilizio sanitario di Pesaro si mette alle spalle un altro retaggio rivoluzionato dall'emergenza covid. Lunedì 13 marzo è infatti prevista la riapertura dell'ambulatorio prelievi e iniezioni di via Comandino che sfocia su piazza Redi. Un servizio storico che torna a disposizione della cittadinanza dopo tre anni in cui per decisione di Regione e Asur la pandemia la trasformò nella base operativa delle USCA, ovvero le unità di assistenza domiciliare protagoniste in tutta l'emergenza covid. Un'ufficialità arrivata nelle scorse settimane sollecitata da una interrogazione del consigliere regionale Andrea Biancani. Mi ero impegnato in prima persona garantendo appunto la riapertura nel momento in cui fosse finita l'emergenza covid e l'emergenza covid è finita a fine anno, non si è riusciti ad aprire subito perché al momento stanno facendo dei lavori per rendere il punto prelievi ancora più accogliente e migliorarlo e c'erano delle infiltrazioni d'acqua, però questa notizia appunto che il 13 marzo è prevista l'apertura mi sembra veramente una buona notizia.